Un saluto a tutti e bentornati su ZanFactor, ringrazioci su One Piece Pirate Warriors 3 In questo video faremo il capitolo 2, episodio 1, il teschio e il ciliegio che dovrebbe essere l'avventura dove si incontra Chopper, il dottore che ha insegnato il mestiere del medico Iniziamo! Ah no, il regno di Alabasta Ho sentito una cagata Ah ecco, infatti, mi sembrava strano Bisogna di Chopper Ah no Grazie a tutti. 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 Andare a calmare Lapin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi morire schifoso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.